allora buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno ragazzi io sono l'insegnante la lingua italiana e questa è una lezione per presentarvi allora cominciamo allora si dice prima di tutto buongiorno buon buongiorno ragazzi allora buongiorno si pronuncia guarda allora questa bu buongiorno buongiorno allora io e la bescia io mi chiamo la c h i si pronuncia chi io mi chiamo e la bescia oppure possiamo dire anche io sono e la e la bescia allora io mi chiamo questo è il verbo e qua io sono e un altro verbo io mi chiamo e la bescia oppure io sono e la bescia o ancora possiamo dire anche e bescia allora abbiamo il mio nome il mio nome e la il mio cognome e e l'accento e bescia allora passo la domanda a voi io mi chiamo e la bescia allora la domanda e tu allora guardate bene guardate benissimo anche guardate io mi chiamo io mi chiamo e tu come ti chiami allora il verbo io mi chiamo io mi chiamo e tu ti chiami allora la risposta io mi chiamo Anna Anna Ferrari è chiaro allora per esempio io mi chiamo Hela e tu come ti chiami allora qualcuno di voi dice che io mi chiami io mi chiami io mi chiamo Hela e tu come ti chiami io mi chiamo Omar Omar romban beh allora passiamo poi ho detto qua io posso allora io sono Hela bescia allora la domanda adesso o E tu sei? E tu chi sei? Allora, la risposta. Io sono Anna Ferrari. Io sono Anna Ferrari. Allora, qua abbiamo, allora, io sono, questo è il verbo, e poi, allora, io sono. E tu? Chi? Chi sei? Allora, sei è il verbo essere. Io sono, tu sei. Allora, io sono Anna Ferrari. Va bene? Se, a questo punto, allora, poi passiamo, allora, e tu? Allora, qua è stato cancellato. Chi sei? Io sono. Allora, il chi? Allora, passiamo ancora. Allora, ho detto anche il mio nome è. Allora, ho detto il mio nome è Eela. Eela. Allora, la domanda è tu? Qual è il tuo? Qual è il tuo nome? Qual è? Allora, guardate ragazzi, qua abbiamo, allora, il mio, il mio nome è Eela. Allora, il mio, il mio nome è Eela. E tu? Allora, io e tu. E tu? Qual è il tuo nome? Allora, la risposta è il mio nome è Eela. Allora, un'altra domanda ancora. Allora, ho detto il mio cognome è Eela. Becia. Il mio cognome è Becia. Allora, il mio cognome è Becia. Allora, il mio, il mio cognome. Prima abbiamo visto il mio nome. Adesso il mio cognome è Becia. Allora, la domanda è Eela. Allora, la domanda è Eela. E tu? Qual è il tuo cognome? Qual è il tuo cognome? Allora, la risposta è il mio cognome è Eela. Abbiamo detto Anna Ferrari? Abbiamo detto Anna Ferrari. Allora, allora, un attimo. Pensavo che Anna, Anna. Il mio cognome è Ferrari. Ferrari. Ok? Allora, dunque, qua possiamo dire, guardate un po'. Allora, il mio nome è Becia. E tu? Qual è il tuo cognome? Allora, il mio cognome è Ferrari. Allora, il tuo si riferisce al tu e il mio si riferisce a io. Il mio cognome è Ferrari. Chiaro? Allora, allora, faccio un'altra frase. Dunque, prima, allora, possiamo dire, allora, il nome ed il cognome. Allora, allora, il nome è Anna e il cognome è Ferrari. Non confondere tra nome ed il cognome. Il nome è Anna. Il cognome è Ferrari. Il mio nome è Hela. Il mio cognome è Becia. Il tuo nome è Nede. E il tuo cognome è Benagli. Va bene? Allora, poi facciamo un'altra frase. Ascoltate. Allora, io sono Tunisina. Io sono Tunisina. Allora, il mio paese è la Tunisia. Va bene? Allora, diciamo la mia nazionalità è Tunisina. La mia nazionalità è Tunisina. Allora, Anna Ferrari. Parliamo di Anna. Allora, Anna dice che la mia nazionalità è italiana. Allora, allora, quando dice italiana, allora si riferisce all'Italia, certo? L'Italia. Allora, l'Italia italiana. Va bene? Ok, allora, la mia nazionalità è italiana. Allora, siamo ancora. Allora, io dico io ho 40 anni. Io ho 40 anni. Guardate, ragazzi. Qua. Allora, si pronuncia la U e poi la A. Qua. Non è K. Come il francese, no? Io ho 40 anni. E guarda ancora. Allora, io ho. Allora, questo è il verbo. Io ho. Il verbo avere. Allora, io ho. Si pronuncia O. Però la H, questo qua, non si pronuncia. Non si pronuncia mai. Io ho 40 anni. Allora, la domanda. E tu? Quanti anni hai? Guardate. Quanti anni hai? Questo è il verbo. Allora, qua abbiamo detto O e qua si pronuncia A.I. E la H, sempre, non si pronuncia. E tu? Quanti anni hai? Allora, il verbo qua è coniugato con il tu e qua il verbo è coniugato con io. Allora, la risposta Io ho, per esempio, 17 anni. Guardate la pronuncia. Io ho, guardate un po'. Di, cias, un attimo. Allora, di, cias, sette. Allora, di e la C con la I con la A si pronuncia cia. Di, cias, sette. Allora, per esempio, Monica risponde e dice Io ho, diciotto, diciotto anni. Guardate. Di, ciotto, diciotto. Allora, la C con la I con la O si pronuncia cio, diciotto, diciotto anni. Federica risponde e dice Io ho, diciannove, diciannove anni. Guardate, guardate, allora, la C con la I con la A si pronuncia cio, diciannove anni. Dunque, ripetiamo da questa parte Io ho, io ho diciassette anni, io ho diciotto anni e io ho diciannove anni. Va bene? Va bene questa parte normalmente? Allora, poi faccio un'altra domanda ancora, un'altra domanda. Prima vi do Io abito a Napoli Io abito Ascolta bene Io abito Non è abito Abito A Napoli Allora, la domanda è A voi Allora, e tu? Allora, dove, 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 per chiedere di un luogo. Dove, dove, dove abiti? Allora, guarda un po'. Allora, io abito Allora, il verbo prende la O quando si coniuga con io E tu, dove abiti? Allora, la I si mette quando il verbo è coniugato con tu Allora, la risposta Io abito A Milano Io abito Abito Abiti La A E la sillaba lunga Abito Io abito a Milano Allora, chiedo per esempio a Federica Dove abiti? Federica risponde Io abito a Torino Massimo risponde e dice Io abito a Palermo Quindi la A E poi troviamo un nome di città Napoli Milano Milano Torino Come in Tunisia Asus Asfax A che Libia Ok Allora Io Io Sono La La professoressa D'italiano D'italiano Oppure Dico anche Io sono L'insegnante 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 D'italiano Io sono La professoressa D'italiano Oppure Io sono L'insegnante D'italiano Va bene Allora Anna Ferrari No Troppo questo Allora Anna Ferrari È È Un'allieva Anna Ferrari Possiamo dire Anche È Una Luna Sono Sinonimi Oppure Possiamo dire Anche Che Anna Ferrari È Una Scolara Allora Dunque Io sono La professoressa D'italiano O io sono L'insegnante D'italiano Invece Anna Ferrari È Un'allieva Un'alunna Oppure Possiamo dire Anche Una Scolara Va bene Una Scolara Allora Questa è Anna Ferrari E se Parliamo Per esempio Di Massimo Massimo Bruni È Non è Un'allieva Allora Qua abbiamo Anna Ferrari Anna Ferrari È Una Signora È Una Femmina Massimo È Un Ragazzo Allora È Un Allievo E possiamo Possiamo dire Anche Che è Un Alunno O anche Uno Uno Scolaro Allora Che cosa Possiamo Notare Allora Bruno Massimo Bruni È Un Maschio E Un Maschio Allora Perciò Lui È Un Allievo Mettiamo La O È Un Alunno Con la La O È Uno Scolaro Con la O Invece Anna Ferrari È Una Femmina È Una Femmina Con la A Un Attimo Dunque Che succede Con la A Dunque Facciamo Il Riassunto Adesso Lo faccio Con Il Grasso Guardate Allora Questo Per Il Maschile E Questo Per Il Femminile Facciamo Così Allora Per Il Maschile Mettiamo Sempre La O E Per Per Il Femminile Mettiamo Sempre La A Allora Qua Mettiamo Femminile E Qua Mettiamo Maschile Allora Maschile E Femminile Allora Allievo Alunno Scolaro Allieva Alunna E Scolara Va bene? Benissimo Normalmente Va Benissimo Prendiamo Alcune Piccole Frasi Frasi Piccole Piccole Allora Guardate Allora Laura Laura E Simpatica Laura E Simpatica Allora Laura E Una femmina Una frase Al femminile Allora Se mettiamo Per esempio Luigi Luigi E Simpatica Allora Ca Si trasforma In O Perché abbiamo qua Luigi Che è Un maschio Facciamo il contrario Daniele Daniele È Un Ragazzo Bravo Allora Facciamo Daniela Adesso Guardate Un po' Per non Confondere Daniele È Un Ragazzo Daniela È Una Ragazza Allora Daniela È Allora Una Diventa Una Ragazzo Diventa Ragazza È Bravo Bravo Diventa Brava Bravo È Brava Allora Guardate bene Dunque Faccio Così Un attimo Allora Togliamo tutto E Riscrivo Un'altra volta È Allora E Una Allora Ragazzo Diventa Ragazza Un Bravo Diventa Bra Va Dunque Così Abbiamo Applicato La regola La O Del maschile Si trasforma In A Al femminile Va bene Ok Vediamo un'altra cosa Allora 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 Per esempio Giorgio Giorgio È Un Allievo È un allievo Gentile 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 Allora Giorgio È un ragazzo Allora Qua Giorgio È un Ragazzo Allora Trasformiamo Trasformiamo La frase Al Femminile Allora Giorgio Prendiamo Per esempio Giovanna E Guardate un po' Allora È Un Con l'apostrofo Allieva Gentile Ma Guardate un po' Ragazzi Allora Un Del maschile Si trasforma In Un Con l'apostrofo Che è Normalmente Una Allora Una Allieva Noi Non possiamo Dire Una Allieva Perché Abbiamo qua A Abbiamo qua A Quindi Si toglie Questa qua E mettiamo L'apostrofo Allora È Un'allieva Gentile Gentile Non Cambia Finisce Sempre Sempre Ragazzi Finisce Sempre Con La E Prendiamo Un'altra Frase Per Vedere Ancora Allora Luigi Ottimo Luigi E Uno Scolaro Intelli Intelligente La pronuncia Ragazzi Uno Scolaro Intelli Gente Gente Allora Al Femminile Luigi Prendiamo Per esempio Laura E Allora Uno Diventa Una Scolaro 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 Diventa Una Scolaro Ra Intelligente Intelligente Non Cambia Allora Che succede? Intelligente Finisce Con la E Intelligente Finisce Con la E Quindi Possiamo Possiamo Qua Che Rifaccio Allora Maschile E Femminile Questa è la tabella Maschile Femminile Allora Al maschile La parola Comincia Con O E poi Si trasforma In A Ragazzo Ragazza Allievo Allieva Bravo Brava Simpatico Simpatica Invece La parola Che finisce Con la E Al maschile Rimane E Anche Al Femminile Quindi Si dice Gentile Marco E Gentile Maria E Gentile Marco E Intelligente Maria E Intelligente Marco E Forte Maria E Forte La casa E Grand L'appartamento E Grande L'appartamento La casa Un attimo Cominciamo qua L'appartamento E Grande La casa E Grande Quindi Quando Il nome O L'aggettivo Finisce Al maschile In O Al femminile Si trasforma In A Invece Quando Il nome O L'aggettivo Finisce In E Al maschile Al femminile Non cambia E Rimane Sempre Una E Allora Fino adesso Noi possiamo dire Che Abbiamo fatto Una parte Interessante Abbiamo scoperto La lingua Italiana Un po' Potete Presentarvi Senza Nessun Problema E Facile Da dire Facile Da Ripetere Quindi Adesso Siete Capaci Di Presentarvi Correttamente Allora Facciamo un Riassunto Allora Questo E L'inizio Allora Io Dico Per esempio Io Mi chiamo Hela Besha E tu Come ti chiami Tu sei capace Di dire Per esempio Io sono Anna Ferrari Io Sono Io mi chiamo Anna Ferrari Io sono Anna Ferrari Se vuoi Anche Il mio nome È Anna Il mio cognome È Ferrari Io Sono Tunisina La mia Nazionalità È Tunisina Io Ho 17 Anni Io Abito A Napoli Io Allora Allora Anna Ferrari È un'allieva Puoi dire Anche Io Un attimo Un attimo Non va bene Allora Io Sono Un'allieva Ok Io sono Un'allieva Allora A questo punto Puoi presentarti Benissimo Va bene Allora Facciamo un Riassunto Allora Riassunto Allora Come Come Io Io Mi Io mi presento Allora Io Sono Anna Ferrari Io Io Ho 17 Anni Mi chiamo Anna Ferrari Oppure Il mio Nome È Anna Il mio Cognome È Ferrari Io Ho Io Ho 17 Anni Abito Maioscula Abito A Napoli Sono Tunisino Italiano Ciò che vuoi Tunisina Perché Anna Sono Tunisina Femminile E Sono Sono Un'allieva A questo punto Tu Puoi Presentarti Perfettamente Allora Puoi dire Io sono Anna Ferrari Oppure Io mi chiamo Anna Ferrari Oppure Il mio Nome È Anna Il mio Cognome È Ferrari Io Ho 17 Anni Abito A Napoli Sono Tunisina Se vuoi Sono Italiana Sono Un'allieva E Punto A questo punto Puoi Presentarti Perfettamente Va bene Allora Cosa aggiungo Questo È È Tutto Per Presentarvi Allora Questa È Una Come si dice Una prova Per Parlare La lingua Italiana Semplice Da Studiare Semplice Da Capire È Molto Piacevole Noi Diciamo Come Insegnanti D'italiano Noi Diciamo Che La lingua Italiana È Una Lingua Piacevole Allora Scrivo La parola Guardate La lingua Italiana È Piacevole Diciamo Anche Che L'italiano L'italiano È Una Lingua Musicale Una lingua Musicale Piacevole Vedete Quando si pronuncia La lingua italiana Si vede che è una lingua Leggera Una lingua Musicale Una lingua Bella È una Io ho finito Allora questa è La fine Della Lezione La fine Della Lezione Diciamo Alla fine Si dice Arrivederci Arrivederci Ragazzi Allora Towa Bajno Lì Netkallam Bil Arbì U Nihab Kum Illy Randu Un Curiozite Illy Randu Un Question Illy Randu Aya Hacaaia нес Bajno Un Can imitation Belise Bajno Bajno Svegli La lingua è facile, una lingua che fa per il francese. E' una lingua che fa per il francese, è una lingua che fa per il francese. E' una lingua che fa per il francese, sono due lingue di origine latina. E' una lingua che fa per il francese, è una lingua che fa per il francese. E' una lingua che fa per il francese, è una lingua che fa per il francese, è una lingua che fa per il francese. E' un'altra lingua che fa per il francese, è una lingua che fa per il francese. e ciò che faccio il nostro lavoro versò il nostro lavoro. Che per esempio, questa è la prima volta, che ci troviamo in correczioni come la baccalauria è una cosa che dice che è davvero banale ma è più facile si è arrivato alla fine che si dice che è davvero banale in correczioni è molto facile e la notate è una cosa molto semplice una cosa fomidabile è una cosa semplice in correczioni quindi non è una cosa semplice abbiamo avuto 20-19 una cosa semplice in correczioni che stanno facendo l'Italia, è riuscita, soprattutto in una economia e un'economia che stanno facendo la società, la società, la società, è riuscita, è riuscita, è riuscita, è riuscita, è riuscita, per esempio, è riuscita la gestione, è riuscita l'Italia, è riuscita a favorizzare a tutti i nostri amici, i nostri amici, che non sono stati candidati a che non vengono e anche dal l'ambiente e dal l'ambiente in tutto il gioco si trovi le scuole un'ambiente la scuole la scuole e ci sono in un'ambiente e in tunas 8 3 e poi ci sono due a più e più. C'è un po' che vuoi dire? Se ti prende la lingua italiana non è un po' si ti prende la lingua italiana e ti prende la lingua italiana e quando ti prende la lingua italiana nel giorno che ti metti a che ti prende la lingua italiana il suo lavoro ma si ti prende la lingua italiana e ti prende una favore è meglio ma non è più. quindi ci vediamo che la lingua italiana è una lingua italiana è una lingua che si è una lingua musicale Se volete guardare il nome, immagino tu ti pari a parlare italiano con l'italiano, con l'italiano con l'italiano con l'italiano con l'italiano, e tu vas voir che tu ti senti a parlare della parola. e voi siete le bienveni bien sûr, voi siete le bienveni e mi chiasa che iniziare a tutti i raggiunti e che vi vogliamo fare una domanda che si può fare una domanda